Sbaglia Bessa, calcio alto! Esulta la panchina dell'Entella l'errore di Daniel Bessa Ho capito male con il corpo all'indietro Non c'è convinzione Perché questo succede quando tu arrivi con la doppia idea Tiro a giro a fil di palo oppure tiro forte Inevitabilmente perdi equilibrio Lizzetto ora Il pallone sul dischetto Guarda il numero 10 dell'Entella Con il mancino Tuisce ancora Marchetti Ma anche qui non c'è arriva Questa non era facile da intuire Perché è arrivato con una traiettoria di corsa Che poteva portarlo sia a calciare di piatto Sul palo alla destra di Marchetti Sia ad incrocio Tocca ora a Venoso Fischi che arrivano non solo dal settore occupato dai tifosi dell'Entella Anche da ampi spazi dello stadio Venoso, gluteo al mancino Baroni c'era quasi arrivato Era toccata, gli ha piegato le mani Tella ancora avanti Questo è un rigore pericoloso Perché è abbastanza centrale Non è molto alto Baroni L'opportunità di riscattare l'errore commesso Sul rigore del 3-2 Non è riuscito a frenare la propria spinta Riccardo Baroni Sistema con cura Il pallone sul dischetto Qualcosa da ritire Marchetti Pisa tantissimo questo pallone Il corsa centrale anche per Baroni Stesso pallone Questa volta Marchetti ci arriva E dice di no a Baroni E allora Sandro ha l'opportunità Spareggiare i conti Troppo centrale Sì, troppo centrale Non deve Se il portiere intuisce l'angolo Considerando anche di rivedo la struttura Dei portieri che oggi hanno Perché qui stiamo parlando Tutta gente che ha circa un metro e 90 Quindi È facile Intervedire Lunghissima rincorsa per Alessandro Parte va col destro Centrale Baroni però si era già lanciato Sulla sua destra E allora È di nuovo parità Tra Genoa e Intella 2-2 nel compito dei rigori Francesco Belli Anche Luigi Vanilli della Fiorentina Come ho detto Terzino Adattato A centrale Stazione Un ottimo livello Ottimo Per non dare indicazioni al portiere Parte Belli Non soltanto la rincorsa centrale Anche la conclusione Si è accalciato in un modo abbastanza insolito Perché È andato con l'interno piede Però la palla È andata centrale Vedi Solitamente Chi calcia in questo modo La mette a fin di palo Dall'una o dall'altra parte Capitan Biraschi Paroni Come dicevi tu Sembra davvero piccolo Piccolo Con la porta Responsabilità in più Che arriva Dalla fascia Indossata Per Davide Biraschi Ma con il destro Paroni Era rimasto fermo Ma si è tuffato Un detto ritardo 3 a 3 Se non hai Se tu puoi leggere La traiettoria di corsa Dell'avversario Perché In base al tipo di corsa Che fa Poi devi calciare Con quella superficie del piede A meno che non parliamo Di Messi Maradona O O Cristiano Ronaldo Giusto per dire Dei nomi Abbiamo capito Ma dai A meno che non parliamo Di questi campioni Il portiere Solitamente Battezza un angolo Ma in questo caso Paroni È rimasto indeciso Quindi poi Paolucci Lo sceglie una rincorsa centrale Paolucci con il destro Spiazzato completamente Marchetti E quanto pesa Questo pallone Per Piontek Se segna Si va a oltranza Adesso Se spaglia Il giro è a casa Sono curioso di una cosa Sono curioso di capire Se adesso andrà ancora Con la stessa ricorsa E tirerà a incrocio A fil di palo Sulla destra di Paroni Perché se fa ancora Questo rigore Mi va dato un premio Adesso li ha calciati Allo stesso modo È due uguali Identici Qui anche psicologia Cambiare o Conformare l'angolo Però non ha tirato La padula Parte Piontek La finta Spiazza Cambia angolo Questa volta Paroni è battuto Si andrà a oltranza Non finisce più Hanno capito I giocatori del Genoa Hanno capito Di dover rallentare E leggere il movimento Del portiere L'efficienza di Piontek Lascia partire Paoloni Paroni Poi lo batte Con il Sia a lui Sia a lui Che i Biraschi Sono arrivati Mezza finta Di Paola Ora La punizione L'ha tirata forte Non si sceglierà La precisione O la potenza Per questo rigore Parte Di Paola E va di potenza E non sbaglia Ancora avanti Lentella E ha messo A grande Rischio la rete Perché Lentella E' tutto Nel piede destro Il termine Zucanovic In effetti Strano che la padura Non sia stata Inserita nei primi cinque Ma nemmeno Come sesto Ungari in corsa Per Zucanovic Secondo me Al termine Della sfida Immediatamente La linea Alla sfida Tra Torino E su Tirol Il problema Che non si vede La fine Di questa sfida Riccardi Ho avuto l'impressione Che camminasse Quasi con i talloni Come se avesse Delle sensazioni Di crampo Riccardi Contro Marchetti In corsa centrale Camminata In stile Viviani Parte Riccardi E non sbaglia Che rigore Mamma mia Grandi Riccardi Mamma mia Grandi Riccardi Paroni Riccardi In questo momento E' il migliore in campo Che freddezza Ha tirato un rigore eccezionale Non dimentichiamo il minutaggio Non dimentichiamo l'importanza Non dimentichiamo lo sforzo Il livello del portiere Che è di fronte E Romulo Non sbaglia Nemmeno lui Si prosegue Si va avanti Ad oltranza 6 a 6 E qui Gli errori di Bessa C'è Crialese E di Barone Lentella Che ha L'infortunio muscolare E 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 Raffreddo Adorjan L'uomo che coni il suo gol Al minuto 121 Ha ripreso una partita Che sembrava ormai finita Vediamo se ora Permetterà Lentella Di proseguire nel sogno Parte Adorjan Con il destro Marchetti Non ci arriva A fil di palo Perfetto Altro rigore perfetto 7 a 6 Perché ti ho fatto la considerazione Di Crialese Che stiamo arrivando Eccolo qui Il turno di Gianucca La Padula Fischiato Chiediamo a Francesco Rocchi La conferma ma Eh sì Sono Le reazioni Fischi da parte Della gradinata nord Eh sì Comunque Clima totalmente opposto Quando arrivano Sul discreto I giocatori Lentella Il silenzio Del Ferrari Sì Invece Quando arrivano Alcuni giocatori Del Genoa Non può essere piaciuta I tifosi del Genoa All'insultanza Di La Padula Evidentemente Perché con Pionte Che avete sentito Religioso silenzio Attenzione Per te e Luca La Padula Ma La Padula Il miracolo Di Paroni La Virtus Lentella batte Il calcio di rigore Il Genoa E si guadagna Gli ottavi di finale Di Coppa Italia Contro la Roma Meritatamente E poi dicono Che il calcio Era uno sport bellissimo Meritatamente